quale rana salta meglio? come costruire una rana? ... Questa è quella di carta Questa è quella di cartoncino Salta più lontano da quella di carta perché è più leggera Potrebbe essere una piccola, una media o una grande Quali variabili in gioco? Ciccio Rana piccolissima fatta con un volantino Gira Rana piccola fatta con un volantino riciclante Stella Rana media fatta con un cartoncino Ciccio Rana grande fatta con un volantino Ciccio Rana grande fatta con un volantino Ciccio Rana grande fatta con un volantino Ciccio Siamo i concorrenti di oggi Bobby Rana grande fatta di carta di rivista Ciccio Rana media fatta di carta leggera Bob Ranocchio fatta di cartoncino Ciccio Rana grande fatta con un volantino Ciccio Rana grande fatta con un volantino Ciccio 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 Precisione costruttiva Lessione giusta Prova, ciao Prova, ciao